buonasera buonasera a tutti cominciamo questa diretta questa sera del nostro venerdì aspettiamo solo qualche secondo che venga autorizzata la diretta e soprattutto che cominciate a collegarvi io intanto provo a collegarmi come il solito da cellulare mi immagino che non ci sia ancora nessuno ma comunque possiamo cominciare a raccontare tanto poi quando vi collegate vedete allora questa sera come tutti i venerdì parliamo di astrologia e questa sera in particolare parliamo di un po di astrologia di astrosofia sapete che c'è una differenza anche se non voglio sottolinearla in maniera particolare perché comunque l'astrosofia è una branca che espande le conoscenze dell'astrologia e ci porta a ragionare di più sul destino sul libero arbitrio sul buonasera ecco sì vedo che siete collegati su questi temi diciamo spirituali e quindi è affascinante anche per questo però utilizza le stesse basi dell'astrologia per cui possiamo tranquillamente mischiare un pochino i nomi insomma credo di avere l'autorizzazione anche di mariotti che dice anche lui sia astrosofia di astrologia allora quello che volevo dirvi che l'altra volta abbiamo fatto non so se eravate presenti se non c'eravate comunque se non non c'eravate vi fa piacere andate a vedere abbiamo parlato di che cosa sono i segni zodiacali e abbiamo cominciato un pochino anche a vedere alcune caratteristiche ovviamente ragionando sempre in termini spirituali di integrazione delle nostre energie e abbiamo però soltanto un po accennato al fatto in termini generali senza entrare nei dettagli al fatto che i segni zodiacali non non sono positivi e negativi cioè non ci sono segni brutti e segni belli ma ciascun segno ha delle qualità che possiamo potremmo chiamare comunemente pregi che a me piace chiamare elementi in luce scusate cioè illuminati e ha dei difetti che comunemente quelli che chiameremo comunemente difetti che ci piace invece chiamare elementi o qualità in ombra ma la bellezza di questa suddivisione di luce e ombra è che come voi sapete quando noi lavoriamo sulla nostra luminosità possiamo trasformare l'ombra in luce perché perché anche senza entrare adesso nel dettaglio ma poi ci vorrei entrare di fare segno per segno e magari farvi anche un po collegare con queste energie per sentirle dentro di voi cos'è che facciamo noi quando c'è il buio serviamo a casa c'è buio accendiamo la luce è perché il buio non esiste come diceva una gag credo non credo che l'abbia detto veramente non lo so che parla di einstein bambino e dice il buio non esiste è soltanto assenza di luce quindi quando noi accendiamo la luce il buio sparisce e la stessa cosa possiamo fare con quelli che noi chiamiamo i nostri difetti secondo me questo è un processo affascinantissimo quando lo applichiamo ovviamente la nostra vita noi stessi e impariamo a gestire così le nostre qualità grazie buonasera è sempre bello sentirti intanto vedo i vostri messaggi come al solito sapete che io non li vedo mai lì quindi devo andare a cercare il mio video se lo trovo boh non lo vedo ancora eccolo qua forse così riesco a vedere i vostri nomi ecco vi riesco a salutare ciao antonella grazie ciao caterina maria rosaria valeria ciao barbara ciao nicole luigia katia buonasera anche a te di nuovo antonella e grazie a tutte allora buonasera 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 quindi stasera parliamo di luce ombra di come accendere la nostra luce per eliminare i nostri difetti e lo facciamo magari anche non dico come un gioco perché proprio non siamo bambini per giocare però diciamo siccome mi è piaciuto molto qualcuno l'altra volta ora non ricordo il suo nome che dice è bello fare l'astrologia un po in maniera gioiosa no non c'è bisogno di essere seri concentrati anzi se la vediamo come una pratica spirituale è la gioia che porta i risultati non la serietà quindi cerchiamo di farlo in maniera anche più possibile gioiosa a me piacerebbe tanto sapere se volete scrivermi lì così vi faccio scrivere quali sono i vostri segni zodiacali se potete il segno zodiacale è l'ascendente così appena abbiamo raccolto un po di dati vedo quali sono quelli più potenti e magari cerco di farli tutti perché non basterà la serata per farli tutti e 12 ai segni quindi magari cominciamo intanto che aspetto i vostri messaggini dove mi dite i vostri segni zodiacali vorrevo farvi appunto capire un attimo meglio cos'è questo concetto di luce ombra luce ombra cosa vuol dire vuol dire che la stessa energia perché abbiamo detto che i segni sono energie pur essendo la stessa può avere un la due lati della medaglia ora qui non ho una moneta prendiamo questa pietra facciamo finta che una moneta cioè questa è una pietra e facciamo finta che sia un'energia io lo posso vedere da questo lato qui e chiamarlo lato positivo oppure posso vederla dal lato opposto e chiamarlo il lato negativo ma alla fine la stessa energia non riesco a staccarli non sono cose che io riesco a scomporre a togliere eliminandole posso solo trasformare ok quindi quando io vedo il lato negativo di un'energia posso dire ok il lato negativo all'ombra adesso io accendo la luce accendendo la luce quell'ombra quei difetti si trasformano in pregi e noi riusciamo così a vivere più luminosamente l'energia che ci appartiene questo ovviamente lo possiamo fare per cominciare parlando sempre di sole ascendente che sono le due caratteristiche del tema che tutti conoscono del tema natale che tutti o quasi vedete c'è qualcuno che dice non so l'ascendente ma intanto questo serve po per far statistica e capire quali segni fare quindi non vi preoccupate se non lo conoscete fate pure il sole vi ricordo una cosa che già mariotti vi aveva spiegato comunque vi ricordo l'avevo forse già detto anch'ia anch'io che in particolare le donne hanno la tendenza a riconoscersi di più luminosamente nel loro segno ascendente che non nel segno solare per cui se voi conoscete il segno solare cioè il segno quello che si chiama normalmente segno zodiacale questa sera siamo già a posto così senza darvi tabelle e dover controllare la vostra la vostra carta ricordatevi qual è il vostro segno e comunque fate l'esercizio anche per gli altri perché sicuramente avrete qualcuno che che conoscete che ha quell'energia che stiamo facendo e a cosa serve lo stesso lavorare su luce ombra anche se magari crediamo di non avere quell'energia semplicemente perché non è l'energia del nostro sole ma magari ce l'abbiamo sotto forma altre forme perché il tema vi è sempre detto molto complesso potreste avere una venere in quel segno un altro pianeta in quel segno quindi magari val bene la il tentativo di provarci comunque visto che noi siamo un po tutte le energie proviamo insieme appunto a fare questa trasformazione e però ricordatevi se avete un amico un compagno un figlio un parente qualcuno che magari ha quell'energia in maniera evidente di cui siete a conoscenza e questo processo magari vi può aiutare anche a capire un po di più quando questa persona manifesta l'energia nella modalità più ombrosa e meno luminosa sapendo che non è il segno ripeto che è brutto buono cattivo ma è la modalità in cui noi lo viviamo e quanto noi siamo capaci ad accendere la luce nella stanza o a dire o c'è buio e piangere e non fare niente basta schiacciare il tastino e accendere la luce ok allora facciamo questo lavoro un attimino così vi faccio capire tanto saluto ciao ciao sandra michela ciao 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 giusi ciao ciao antonella scorpione siete in tanti sagittario mi sembra tra l'altro sagittario proprio il segno del cercatore di verità quindi vedo tanti sagittario capricorno va bene io direi che possiamo visto che vi ho promesso così invece di partire dalla riete che poi diventa noioso andare seguire uno schema no allora io vi do vi direi dunque facciamo prima la sintesi vediamo un po quanti siete ovviamente non non c'è una prevalenza incredibile però bilancia scorpione capricorno leone qui capricorno già capricorno è già doppio la scende sagittario e poi c'è il sagittario leone leone sagittario capricorno vedo che è molto vabbè bilancia gemelli adesso no vergine pesce riete vergine vergine c'è anche tanta vergine quindi io mi segno adesso è perché così comincio a dare la priorità poi nel tempo magari scrivete poi quelli che possiamo ho detto capricorno poi devo anche per capire insieme cosa fare prima vergine che sono due segni di terra poi c'era il leone no prima il sagittario ce n'era tanto sagittario leone e poi cosa abbiamo visto cos'è che ho visto scendente leone e poi basta dire che cominciamo con questi la vergine l'ho scritta quindi facciamo un po di fuoco e un po di terra dai partiamo con questi due elementi e poi magari vediamo quanti ne riusciamo a fare oggi quello che mi interessa e farvi capire cosa vuol dire accendere la luce perché io dico si basta schiacciare accendere la luce ma accendere la luce comunque un processo interiore e passa è un processo che possiamo avere tante visioni di come si fa non esiste una regola ci sono le meditazioni particolari ci sono delle teorie filosofico e spirituali non voglio entrare in temi complicati a livello teorico diciamo che noi semplicemente la chiamiamo consapevolezza cioè nel momento stesso in cui io mi rendo conto che una qualità che sto osservando e che mi dà fastidio o nell'altro o in me perché mi viene criticata è un'espressione che noi valuteremmo col giudizio umano negativa o un difetto di quell'energia io posso fare qualcosa per trasmutare no questa energia c'è anche chi usa la luce viola magari proviamo anche a dare la luce violetta possiamo io non ho preparato un metodo particolare vediamo cosa viene qui ci affidiamo anche un po allo spirito e all'energia del momento e facciamo questa trasmutazione io vi guido in questo e lo facciamo insieme quindi vi chiedo li racchiudo tutti a riete scendente pesci si va bene va bene dopo facciamo l'iracchio di tutti i segni se c'è il primo e l'ultimo oppure l'ultimo e il primo è direi che potete adesso fermarvi perché abbiamo individuato i primi quattro che facciamo poi vediamo se c'è bisogno di farne altri andremo a vedere qual è l'altra la più gettonata e potete comunque continuare a scriverlo perché così vediamo la cerco di fare dei calcoli un po mentali per dire non non è che ciò qui la calcolatrice ma vedremo quanti di voi qual è la maggioranza e facciamo i segni più preponderanti ma vi dico anche se non stiamo facendo il vostro segno o il vostro ascendente fatelo lo stesso pensate a una persona che ha quel segno sono sicura che ce l'avete e io vi dirò delle caratteristiche perché è anche un modo per imparare no voglio farvi in qualche modo trasmettere qual è l'energia del segno e come tutti gli esseri umani partiamo dalle caratteristiche negative quindi quelle che poi rimangono belle imprese perché quando c'è da criticare siamo tutti molto bravi compresa ricordarmi i difetti degli altri e poi però faremo anche insieme questo lavoro di trasformarle in positive e quindi di accendere la luce e di vedere cosa vuol dire trasformare i difetti in pregi o a me piace di più dire trasformare l'ombra in luce bene ciao a tutti dai scrivetesi grazie grazie che stai dando anche indicazioni katia così magari io adesso comincio adesso se volete non vi chiedo magari di non scrivere più perché vi faccio chiudere un attimo gli occhi e facciamo non una meditazione una specie di visualizzazione sensoriale ok e partiamo allora abbiamo detto leone facciamolo prima leone poi vergine sagittario capricorno allora leone vergine sagittario e capricorno ora devo capire lo vedrò dopo se è meglio fare tutto il fuoco assieme ma in base all'energia che sentiamo forse meglio unire gli elementi quindi fare prima leone poi sagittario poi la vergine e poi capricorno così facciamo prima il fuoco poi la terra perché già entrare nell'energia dell'elemento è già qualcosa di importante e così imparate i segni non perché avete imparato a memoria delle categorie generiche banali come si trovano dove si danno le etichette come dicevamo l'altra volta ma imparate cosa vuol dire che è un'energia sentite questa energia ci proviamo io mi auguro di riuscire perlomeno a darvi una sensazione vi chiedo quindi adesso di chiudere gli occhi e facciamo il leone chiudiamo gli occhi facciamo un bel respiro e fuori l'aria non è una meditazione non vi sto chiedendo di andare in grande profondità entriamo però in contatto con noi stessi con la nostra parte più interiore che sente e che percepisce e cominciamo a visualizzare il fuoco che elemento che caratterizza sia leone che il sagittario e per ora vediamo solo fuoco immaginiamo una grande fiamma sentiamo il calore è un'energia che stiamo cercando di sentire come se ci fosse un grande fuoco e noi tutti in cerchio intorno in un gruppo d'estate che fa qualche rito intorno al fuoco immaginate un gruppo di persone il leone è un segno sociale non ci possiamo vedere da soli per sentire l'energia del leone dobbiamo sentire un'energia di gruppo un'energia estroversa di persone che hanno voglia di muoversi di fare di agire un calore sentiamo un calore dell'estate il leone è anche legato alla stagione estiva quindi dobbiamo sentirlo questo calore una voglia di tirar fuori la vita la vitalità ma soprattutto il calore più che l'umidità non c'è tanta umidità c'è secchezza non siamo in un ambiente dove ci si scambiano baci abbracci e tenerezza e piuttosto c'è un'energia che ci unisce perché siamo stiamo immaginando di fare qualcosa un rito di unificazione che ci fa sentire tutti uniti e adesso esce fuori il rappresentante diciamo del leone il capo il capo di questo gruppo inizialmente sentiamo un'energia negativa perché siamo qui per fare un rito di trasmutazione sentiamo un'energia negativa che cosa questo capo a vuole comandare è molto focoso avete presente le rappresentazioni che ci sono magari nei film di mafio in gomorra di questi capi che hanno molte gestualità ma anche col fisico fanno vedere la loro forza la loro possenza ma soprattutto che ti spaccano la faccia se non fai quello che dicono loro esercitando il comando in una maniera ombrosa negativa sono un po rigidi non sono veramente persone che possiamo giudicare affettuose sicuramente esagerano usano un po la minaccia oppure la vogliono mettere un po paura perché questa loro caratteristica anche di struttura forte la fanno pesare si vantano vuole far vedere a tutti che il capo immaginiamo che abbiano so un abito più vistoso degli altri in modo che faccia capire attraverso la sua immagine che lì chi comanda è lui quindi fa di tutto per mettersi in mostra prima c'era un gruppo di persone che erano intorno a un fuoco felici di fare festa e ora arriva il capo della festa che senso ha il capo della festa questa è l'ombra del leone vuole mettersi un po sino sopra gli altri è ambizioso senti la sua superiorità vuole l'ammirazione vuole essere coinvolto nel gruppo perché sente il bisogno del gruppo però si sente un po superiore vuole essere il capo del gruppo vuole comandare adesso noi cosa facciamo prendiamo questo fuoco che è il suo elemento che abbiamo qui al centro abbiamo visto tutti i difetti del leone immaginiamo questo fuoco che sta diventando usiamo la luce violetta come dicevo prima sta diventando una luce viola carica di energia trasmutativa carica di potenziale di cambiare quello che tocca di trasformare il negativo in positivo pur mantenendo la stessa energia prendiamo questo capo immaginiamo di metterlo al centro del fuoco ma non brucia ovviamente è un tutto immaginario sta bruciando nella luce violetta e ora cominciamo attraverso la luce violetta a vedere la trasmutazione quali sono le sue intenzioni è generoso è legato al gruppo la famiglia immaginate pure se volete l'archetipo del mafioso anche delle qualità questo mafioso anche se non voglio dire che tutti i leoni sono mafiosi mi raccomando è solo l'esempio per far capire l'energia hanno dei valori dei valori molto importanti quando sono luminosi sanno di aver bisogno del gruppo e valorizzano gli altri sono autentici vediamo questo capo che improvvisamente cambia la sua energia diventa un'energia di una persona sorridente che sa di avere potere di convinzione sugli altri ma ha deciso di usarla bene questo potere è fedele ai valori autorevole invece che autoritario incomincia ora uscire da questo fuoco e si mette in relazione agli altri si nota sempre è un pochino diverso si vede che è una figura di riferimento ma questa volta il suo potere non lo impone lui da dentro ma gli viene attribuito dagli altri in questa trasmutazione dell'energia del leone in positivo il leone non comanda perché vuole avere un ruolo di rilievo ma comanda perché gli altri gli chiedono di essere guidati da lui sentono le sue qualità la sua rispettosità la sua sicurezza la naturalezza nel vedere cosa c'è da fare nel dire a tutti cosa devono fare la capacità di stare al centro di essere osservato senza arrossire l'abilità di guidare di comandare la generosità che vuole sempre mettere il gruppo e il fine del gruppo prima ancora del suo proprio fine questo è l'elemento in luce quando la luce il leone viene vissuto in luce è un leader naturale non deve dire io sono qui che comando naturalmente gli altri gli diranno ti do la possibilità di comandarmi nel senso positivo riconosco la tua autorevolezza e non sentono più l'oppressione del capo che comanda per autorità bene questo è un esempio adesso mi piacerebbe sapere se avete qualche osservazione magari qualche esempio di chi è leone o di che conoscete i leoni poi le altre gli altri segni adesso sospendiamo un attimo perché ne avete scritti tanti e cercherò di farne almeno non so abbiamo un'oretta ma almeno tre o quattro questi quattro riusciremo a fare ditemi solo se questa modalità vi aiuta a entrare nell'energia e se avete sentito l'energia del leone cioè se in qualche modo potreste cominciare a dire ora senza voler esagerare però quella persona lì ha l'energia del leone se avete capito in che cosa consiste anche solo senza che una persona parli come si presenta come si mostra sicura di sé come riferimento come attira rispetto se volete commentare io sono leone brava allora vediamo ascendente bilancia ti sei riconosciuta in questa energia ecco i leoni si sono riconosciuti in questa energia e si vedono più in ombra o vi vedete più in luce in questa energia perché chi è segno leone ed è donna potrebbe anche avere delle caratteristiche in ombra del leone io ovviamente le ho un po' esagerate perché dovevo far vedere i due opposti che però non sono opposti nel senso l'autoritario che diventa debole ma è sempre autorità ma trasformata e ricordatevi che la trasformazione dell'ombra in luce non è un andare dalla parte opposta ma è un voltare la medaglia e vedere la stessa energia dall'altro lato quindi c'è sempre autorità ma non è più autorità in senso negativo diventa autorevolezza io ho un marte in leone bene ah ti sei riconosciuta in ombra ok chi si riconosce in ombra e tu hai marte in leone sì marte in leone comunque dà delle caratteristiche leone hai fatto bene se lo sai a considerarti un pochino leone anche tu ecco cercate di capire se la vive se la vivete in ombra com'è che potete far qualcosa per trasformarla in luce potete fare da soli questo piccolo rito della fiamma violetta dove vi immergete e chiedete di trasformare in luce tutte le vostre caratteristiche in ombra ma tanto io ho un marte in leone ma tanto cos'è che vedi tutto nero perché vedi tutto nero loredana vedi comunque tutto nero ah ti vedi in ombra per quello leone ascendente bilancia allora ti vedrai meglio nella bilancia perché dicevamo la donna si riconosce meglio nell'ascendente poi state guardando ciao 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 e provate a qui c'è un acquario ascendente capricorno dopo facciamo anche il capricorno quindi io direi andiamo avanti e proviamo adesso io vado avanti perché vi devo dare soprattutto delle sensazioni non è che sono delle spiegazioni particolarmente mentali o non possiamo neanche discutere troppo il vostro caso personale perché bisognerebbe come sapete leggere la carta vediamo un altro tipo di fuoco così capite anche la differenza tra due segni che sono sempre di fuoco ma c'erano molte persone col sagittario quindi adesso io vi farei l'energia del sagittario provate a essere di nuovo lì chiudiamo gli occhi aspetta che sentiamo cosa dice lisa che sta parlando di sé come leone sono leone mi sono riconosciuta sì ma sto bene anche da sole non ho necessità di avere un gruppo intorno va bene lisa potrai capire questo magari andando a vedere gli altri lati della tua carta magari ci sono degli altri indicatori che parlano di questo però se ti sei riconosciuta vuol dire che comunque questa energia la conosci e che comunque va valorizzata perché dove c'è il sole sicuramente è un'energia molto importante per te l'importante che la trasformi il più possibile in luce quindi che accendi la luce di quel sole e non fai vedere agli altri il tuo lato negativo come in tutti i casi e non solo tu ovviamente facciamo un attimo il sagittario che siamo ancora lì con l'immagine del fuoco no chiudiamo gli occhi che differenza c'è allora adesso siamo sempre in questo gruppo perché comunque siamo in tante persone questo nostro un gruppo ci troviamo tutti insieme lì e siamo lì però è un fuoco è un fuoco come dire più sottile meno terreno potremmo chiamarlo un fuoco un po più virtuale spirituale immaginario no perché il sagittario è un segno più spirituale più alto il leone si occupa molto dell'aspetto sociale quindi della relazione con gli altri e il gruppo il sagittario invece vede gli altri come delle persone da guidare anche in questo caso c'è il concetto di guida però è più il visionario ma vediamo l'ombra prima è un di solito siccome sente di avere immaginiamo questo sagittario che arriva dai facciamo bene l'immaginazione siamo in questo gruppo intorno al fuoco vogliamo divertirci però questa è una riunione di tipo un pochino più spirituale vogliamo fare qualcosa che ci apra la visione spirituale del mondo quindi siamo in attesa del guru siamo in attesa dell'insegnante spirituale che deve arrivare e se arriva una persona sagittario in ombra cosa fa si pone come insegnante immaginiamo quest'uomo questa donna ora io non voglio darvi un'immagine precisa createvela voi questa persona che arriva e ha l'atteggiamento dell'insegnante che sa tutto lei e noi siamo qui e siamo venuti per imparare da un guru ci troviamo un guru in ombra un guru che vive l'energia del sagittario pensando di essere detentore dell'unica verità possibile e pensando di avere davanti degli studenti che non sanno niente di spiritualità e di quello che dovrà parlare che quindi dovrà insegnargli proprio tutto quindi con un po di disprezzo per il senso di inferiorità che attribuisce a queste persone rispetto alla sua superiorità questa è l'ombra del sagittario io non sono come voi sono un po più di voi quando sono in ombra sagittario e questo signore questa signora è un po megalomane vuole far vedere quanto ne sa vuole far capire a tutti che ha studiato tanto che ha fatto dei corsi che o che è più avanti nel sentiero spirituale degli altri per cui ha fatto tante ha avuto tante dimostrazioni di essere alto spiritualmente un po presuntuosino possiamo dire o forse si sente un po infallibile siamo nell'ombra l'ombra è una persona che arriva e dice io ti insegno io so qual è la verità io so quello che so io è la cosa giusta è l'unica cosa in cui credere tutto il resto sono bagianate ora ci immaginiamo che vogliamo trasformare noi non vogliamo un'energia così del sagittario ok anche come tutti i segni sagittario al suo lato ombra e diciamo dai sei il guru qui tra l'altro mi viene una piccola citazione di un libro bellissimo che probabilmente avrete anche letto che si chiama proprio la luce sul sentiero che dice che quando uno dei drammi del sentiero spirituale è quando ci sentiamo superiore agli altri perché lì facciamo un gravissimo peccato che è il peccato dell'orgoglio spirituale cioè pensiamo di avere capito di più degli altri e quindi adesso immaginiamo questo guru che purtroppo sta vivendo una fase di orgoglio spirituale quindi manifesta il suo lato in ombra e ora lo trasformiamo prendiamo la luce del fuoco siamo sempre nel fuoco prendiamo la luce del fuoco e il fuoco si trasforma lo trasformiamo lo vediamo come una fiamma violetta di trasmutazione e lanciamo questa energia di fuoco di trasmutazione diciamo caro insegnante caro guru tira fuori il tuo lato accendiamola questa luce trasforma tutto quello che c'è te in ombra in luce e questo insegnante pian piano lo vediamo rilassarsi non sente più il bisogno di dire io so tutto ne so più di te incomincia avere fiducia e gioia confessa di essere cercatore di verità e dice io non so se ho la verità la sto cercando ma il mio scopo più alto è la ricerca della conoscenza e quel poco che conosco ve lo voglio dare cerco il senso della vita studio le leggi universali chissà forse ho visto qualcosa non sono sicuro di saperne più di voi però ve lo voglio dire e se vi piace seguitemi perché ho tante cose da dire sento tanta gioia dentro di me da quando ho capito queste cose ho delle visioni non posso garantire che siano corrette ma voglio comunicarvele perché sono visioni di un futuro di gioia dove prevale la tolleranza dove c'è entusiasmo dove il mondo sta bene c'è fede tutti lavorano sul piano spirituale non solo su quello dell'ego e della lotta visualizziamo insieme questo futuro e attraverso questa carica di aiuti inserire di trasmettere il senso della visione del futuro anche lui diventa un leader ma è un leader naturale è un leader scusate spirituale anche leone era un leader ma era più un leader sociale sul piano delle cose più materiali sociali dell'organizzazione sociale il sagittario è la leadership spirituale ti mostro la via la luce sul sentiero ok ci sono dei sagittario che si riconoscono in questa ombra in questa luce e vivetela così quando vi accorgete che qualcuno non vuole che gli insegnate quello che sapete vuol dire che state usando l'ombra di questa energia perché se voi la usate bene in luce gli altri adoreranno ascoltare quello che volete insegnargli invece se volete insegnare perché dite io ne so più di te siete nel lato ombra del sagittario vediamo cosa volete dire se c'è qualche sagittario c'è ancora qualche commento di michela sul leone io leone scendente leone riconosciuto sia luce che l'ombra il gruppo è vitale essi cara quindi ti sei riconosciuta bene hai capito quando puoi portare più luce lavoro per la luce perché riconosco i pregi di questo segno bravissima se vediamo se c'è qualche sagittario che ammette che ogni tanto vuole fare un po l'insegnante anche quando gli altri non lo chiedono e che magari gli altri rifiutano questo tipo di relazione soprattutto si prova con dei figli o con o sul lavoro magari o con persone che magari siano poco desiderose di sentirsi insegnare qualcosa ecco quando succede così cioè che vi accorgete che gli altri non accettano il vostro insegnamento cari sagittario ricordatevi che vuol dire che state esprimendo male la vostra energia sagittario e quindi potete chiedere di trasformarla in luce potete anche semplicemente dire ecco la reazione non è stata quella che volevo hanno rifiutato il mio insegnamento quindi ora chiedo di poter esprimere le mie voglie e desiderio di trasmettere quello che so in maniera luminosa e magari solo l'intenzione di trasformarla in maniera luminosa ve lo fa dire in un modo diverso portare luce ripeto consapevolezza la consapevolezza sia quando ci rendiamo conto che un'energia l'abbiamo espressa in una maniera non armoniosa e quindi non è colpa degli altri che si arrabbiano con noi perché ci dicono qualcosa di negativo vuol dire che noi abbiamo emesso un'energia che non era armoniosa che non era luminosa e allora la consapevolezza è dire ok sono stata io ho capito hanno reagito male ho sbagliato qualcosa io ora cerco di esprimere questa cosa in maniera luminosa e anche solo l'intento perché non sappiamo cosa vuol dire non sappiamo cos'è ma l'intento di dirlo in maniera luminosa la trasformerà in qualcosa di luminoso voi avrete acceso la luce nell'energia del sagittario alcune persone sono un costile allora vediamo un attimo cos'è che dice perché io qui vedo dei messaggi poi si lo ammetto dice sono così sia in luce che in ombra però non vedo chi sei ah sei tu filomena brava però dice che alcune persone sono comunque ostili beh sei delle persone ostili c'è qualcosa da imparare perché gli altri sono il nostro specchio e lo sai che funziona così quindi lì chiediti ancora dov'è che ho espresso male la mia energia sagittario va bene sento di parlare buonasera dice la arrivo ora sento parlare sagittario che è una scendente sempre in ombra la mia comunicazione però se la in ascendente potrebbe essere in luce quindi dovresti essere più luminosa in realtà quindi il passaggio dovrebbe essere più facile cioè l'illuminazione di un sagittario ascendente per una donna è più facile sei una donna sì perché io do per scontato che siano tutte donne si è la sei una donna praticamente è una trasformazione che richiede meno sforzo quella del sole come accettazione di una certa luminosità integrazione di alcune parti relative alla posizione del sole per la donna possono risultare un pochino più ostiche andiamo avanti sempre in ombra la mia comunicazione però adesso se luce in ombra sai che puoi accendere la luce alle volte lo sapete quella consapevolezza noi ne parliamo tanto io non voglio far discorsi filosofici profondi ma lo sapete che alle volte la consapevolezza è anche solo riconoscere che abbiamo sbagliato e dire semplicemente caspita ho sbagliato ho usato una brutta energia voglio usare un'energia migliore anche solo questa è consapevolezza non è che dobbiamo fare esercizi di presenza di concentrazione per delle ore anzi è meglio quando viviamo la vita normale avere sempre un livello più alto di consapevolezza nella vita normale che meditare benissimo un'ora al giorno e poi far 23 ore in cui siamo delle pesti terribili no questo almeno quello che penso io non voglio insegnarvi niente ma credo che sarete d'accordo che è meglio essere un po più equilibrati non meditare un'ora e poi non cambiare niente dopo ok allora la prossima adesso passiamo nella terra quindi andiamo alla vergine perché era il quarto segno e cominciamo a vedere cosa può essere la vergine in ombra quindi adesso non possiamo più usare il fuoco come punto di ritrovo aspettate che ci sono dei commenti voglio guardarli un attimo è prima di passare alla terra vediamo io leone allora e l'ha detto la sua poi dici maria grazie io le ho nascente cancro la mamma sagittario con cui sempre lottato perdendo miseramente per emergere lo riconosco grazie l'ho imparato a riconoscermi io e guardi di menzionarmi le sono grata bravissima maria grazia perché tu sei sole in leone quindi chiaramente il tuo per tirare fuori la luminosità del suo sole in leone è dovuto lottare un po con la mamma sagittario che ti voleva insegnare tu che volevi comandare si dice che sagittario e leone vanno d'accordo però bisogna anche vedere il gioco della luce dell'ombra chiaramente bene vedo tanti cuoricini che bello grazie e quindi qui c'è da capire poi lucina non so se si dice lucina o lucina magari mi dirai buonasera sono leonesa ascendente capricorno perfetta è la tua serata voglio sempre accontentare gli altri è normale se una leonesa ascendente capricorno bisognerebbe capire un po di più il tuo tema per dirti questo però diciamo che sicuramente il segno del leone il segno del capricorno non sono dei segni che vogliono tanto accontentare se stessi sono entrambi dei segni che guardano molto fuori e quindi in qualche modo si può essere può essere vero tieni presente che sei un po terra un po fuoco che sono due elementi che abbiamo visto l'altra volta non sono compatibili tra loro quindi che dentro di te ci sono due voci che contrastano un po cioè c'è una nemica di te anche dentro di te ci sono due voci un po nemiche che litigano un po tra loro e quando si incomincia a mettere insieme anche queste cose chiaramente il lavoro sull'ombra diventa un po più complesso noi adesso stiamo facendo proprio l'energia pura di un segno soltanto io sagittario come segno zodiacale mi rispecchio totalmente forse non sempre sono stata consapevole nell'esprimere pensieri anche se erano fatti con buona intenzione sì perché alle volte non è la buona intenzione che noi crediamo di avere è proprio l'energia che mettiamo ricordatevi che l'energia che mettiamo non è che corrisponde a quello che crediamo noi corrisponde a un controllo anche di quello che stiamo emettendo essere consapevoli di dell'energia che che stiamo emettendo e il modo migliore cosa servono gli altri servono a rifletterci quando stiamo emettendo una cattiva energia rispondono in maniera negativa si arrabbiano ci dicono cosa vuoi va all'inferno non mi parlare così e quando abbiamo questo tipo di reazioni è importante chiedersi sempre dove ho sbagliato probabilmente c'è stata un'espressione non luminosa dell'energia invece quando gli altri sono sereni accolgono i nostri suggerimenti eccetera eccetera vuol dire che la nostra energia la stiamo esprimendo in maniera luminosa che stiamo usando una leadership naturale che viene ascoltata senza nessun problema senza ferire l'altro senza fargli sentire che c'è un comando ma è semplicemente un consiglio una guida un un qualcosa che vive come grazie mille che me l'hai detto e non ma chi ti ha detto di farmi i fatti miei di farti i fatti miei allora tu sei sagittario dunque sono arrivata tardi ariete scendente ariete lo faremo la prossima volta però oggi stiamo facendo abbiamo fatto leone sagittario adesso cominciamo la vergine poi facciamo ancora il capricorno e la prossima volta faremo altre cose riferiamo un po per volta perché non ce la facciamo tutto in una volta allora vergine cominciamo adesso stiamo entrando nel mondo della terra quindi cambiamo completamente elemento e i primi due l'abbiamo fatti immaginando questo fuoco anche se siete arrivati adesso potete partecipare a questa visualizzazione non c'è niente di non stiamo facendo fisica quantistica stiamo facendo degli esercitazioni di connessione con questo tipo di energia quindi potete entrare anche adesso non c'è bisogno di aver capito niente prima eccetera abbiamo semplicemente sentito l'energia del leone del sagittario abbiamo capito la differenza il leone si rivolge a un gruppo su questioni più umane più sociali mentre il sagittario si rivolge di più su questioni spirituali è una leadership più alta più spirituale e qui adesso entriamo nella vergine capricorno che ha la stessa caratteristica però parliamo di sé di terra la vergine e il capricorno sono anche loro la vergine può essere equiparata al leone però nel segno è un segno di terra cioè si occupa di qualcosa di concreto che deve essere realizzato materialmente a livello sociale quindi il lavoro il servizio verso gli altri il capricorno invece si occupa di più di una terra più alta qui di una costruzione di un ideale se volete di futuro di concretezza di vita nuova di di cambiamento però collegato sempre a una a un elemento terreno che adesso andremo a capire meglio cosa vuol dire perché non è facilissimo allora leone ascendente bilancio mi sento entrambe mi servirebbe un po di terra ma magari ce l'hai bisogna vedere anche quali altri pianeti hai gli elementi ce li abbiamo tutti se no non saremmo vivi allora questo l'abbiamo detto anche l'altra volta mi piacerebbe ripetere è impossibile che una persona gli manchi un elemento se non saremmo morti bisogna averli tutti bisogna vedere quali è il mix cioè quando quando uno ha poco 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 di un elemento ovviamente quell'elemento si dice che manca ma in realtà vuol dire che in una quantità troppo bassa e non è detto che basta guardare solo ascendente da guardare tante cose per capire il mix degli elementi quindi vergine dai immaginiamo adesso io mi invento è quindi vi porto con me in una visualizzazione che non ho assolutamente strutturato me la invento io per immaginare la terra mi immagino che siamo sempre in gruppo il nostro gruppo che saliamo su verso il piano dell'immaginazione un piano lontano dell'anima ci troviamo magari in un grande prato non c'è il fuoco ci sono delle montagne ci sono delle rocce siamo in campagna con lo sfondo della montagna e siamo lì sulla terra sulla terra e adesso siamo tutti insieme qui e c'è qualcuno che ci dice costruiamo qualcosa insieme prendiamo delle pietre e facciamo una piccola costruzione l'elemento vergine l'energia scusate della vergine con l'elemento terra vuole trasformare vuole prendere quello che c'è farlo diventare un'altra cosa per questo si dice che è collegata al lavoro e quando in ombra cosa succede immaginiamo che la persona più vergine di tutti che ha più questa energia assuma un po il comando delle operazioni e tutti sono volenterosi di costruire questo piccolo edificio di pietre mettendo una pietra sull'altra com'è l'energia della vergine in ombra arriva e dice tu hai messo la pietra sbagliata non l'hai messa dritta e giudica questa è l'energia perché la vergine vede molto bene i dettagli però quando in ombra la sua capacità di vedere i dettagli la fa vivere come un giudizio quindi dice in riga tutti dritti cos'è che fai avanti in diretto per di un sacco di tempo mettiti in fila portate una pietra ciascuno estate almeno non più di tre secondi il tempo di posare la pietra poi andate via perché sennò rallentate tutto il lavoro e se qualcuno si ferma un attimo guardare una formichina cosa fai non ti distrarre non guardare la formichina è un po lo schiavista vabbè esagero un po però vorrebbe che tutti fossero super efficienti perfetti precisi e nota molto quello che si fa di sbagliato ma anche se stesso lo fa anche verso di sé quindi cosa fa continua a portare pietre a essere super attento se le mette precise vuole metterle meglio degli altri e poi controlla tutto quello che fanno gli altri ma più che un controllo è il giudizio che conta cioè quello che pesa che hai messo la pietra storta ne hai messa una di un colore diverso vedi che qui c'è un'alternanza di grigio scuro grigio chiaro tu ne hai messe due uguali non va bene quindi umilia gli altri eccedendo nel dettaglio questa è la vergine quando è pedante quando è in ombra adesso noi vogliamo trasformare l'energia della vergine immaginiamo di fare un rito in cui questa persona accetta di trasformare questa ombra in luce e quindi tutti intorno prendiamo una manciatina di terra e facciamo un rito per cui spargiamo sul corpo questa terra dicendo questa terra è sacra e ora la facciamo diventare luminosa eliminiamo con questa terra sacra tutte il latte negativo tutte le ombre accendiamo la luce la luce della vergine che cos'è la luce della vergine questa persona si alza capisce e dice scusate sono stato critico sbagliato ricominciamo da capo si mette davanti a tutti e dice bene allora organizziamo il lavoro così voi due potete portare solo le pietre nere voi due portate solo le pietre grigie proviamo a fare a creare un'armonia una routine in questo lavoro che funzioni bene dove però l'energia scorre bene tutti siete felici di lavorare facciamo un progetto allora prima facciamo questo poi quello e tutti cominciano a muoversi seguendo le direttive ma in una maniera efficiente ma senza nessun tipo di sensazione di essere criticati e giudicati improvvisamente tutti quanti riconoscono il valore dell'ordine dell'analisi della routine della razionalità della capacità di comprendere cosa va fatto per costruire in tempi brevi questa meravigliosa casetta di pietra e poi notano con grande piacere che la persona che dovrebbe essere il leader della vergine è lì che lavora insieme a loro e fa le stesse cose non ordina cosa bisogna fare ma si mette al servizio e lavora insieme a noi organizza e fa da il buon esempio e non si sente superiore ma si sente allo stesso livello quindi nel caso della vergine in luce si crea uno spirito di collaborazione molto bello in cui chi è vergine aiuta gli altri a non perdere il senso dell'organizzazione del tempo allora adesso vorrei sentire ho sentito che leone mafioso guardiamo un po i commenti adesso sì ho detto mafioso per fare un esempio può essere che mi sbaglio non ho sentito che il sagittario è violento e eroso oltre che autoritario allora loredana hai sentito che il sagittario è molto pedante abbiamo fatto sia l'ombra che la luce in tutti e due i segni non so se hai sentito male e comunque ho scherzato quando ho detto che è mafioso ho detto prendete non ho detto che è mafioso il leone ho detto immaginate un mafioso quando vogliono far vedere che loro comandano con energia autorevolezza quella lì è proprio un'energia del leone mi raccomando non vedere subito negativo sugli esempi se gli esempi non ti sembrano azzeccati se mai ti chiedo scusa non ho mai voluto criticare il leone stai tranquilla allora valeria ciao noi ci conosciamo daniela ciao doriana ciao 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 allora il sagittario abbiamo visto è il lato negativo del sagittario ne abbiamo parlato se torno indietro lo guardi abbiamo parlato della sua pedanteria di quando si mette a voler insegnare a tutti e quando invece la trasforma in luce diventa un insegnante naturale che viene ascoltato adesso facciamo l'ultima che è quella del capricorno il capricorno purtroppo alle volte viene preso un po di mira come un segno viene con viene visto male io sto facendo in realtà una rivalutazione dei segni non un affossamento è delle persone mi raccomando spero che questo sia abbastanza chiaro se mai lo ripeto alle volte il capricorno viene visto nei suoi lati negativi viene criticato e si dice quando sento ve l'ho già detto l'altra volta me lo ripeto che non non è mai male è ripetita juvent si sente spesso dire che ci sono dei segni negativi dei segni positivi questo oggi lo stiamo distruggendo vediamo il negativo e il positivo di tutti i segni ok quindi il capricorno ha delle caratteristiche che spesso sono messe negativamente prima di quelle positive quindi adesso andiamo a vedere quali sono le caratteristiche come facciamo a trasformare l'ombra in luce allora capricorno siamo sempre questo bellissimo prato e abbiamo deciso che invece di costruire una casetta costruiamo un tempio una chiesa un luogo dove possiamo esprimere raccoglimento e creare un contatto con la spiritualità la casa di dio di scostruiamo la casa di dio una chiesetta semplice tra l'altro ricordo chi conosce un pochino l'astrologia che io sono rimasta affascinata quando guardando il simbolo di saturno che il pianeta che governa il capricorno ricorda è una croce e una mezzaluna e ricorda la croce di una chiesetta con la casettina della chiesa sembra una chiesa quindi c'è proprio una simbologia collegata allo spirito la connessione con lo spirito il capricorno anche rappresentato come figura da da mosè che ha portato il suo popolo verso la terra promessa e quindi ha fatto una promessa di un futuro migliore come fa il sagittario però il sagittario lo fa sul punto dal punto di vista dell'immaginazione qui invece perché fuoco qui invece c'è proprio la costruzione di un futuro migliore che comprende anche qualcosa di materiale ma questo qualcosa di materiale perché terra il capricorno è agito e creato su ispirazione divina quindi c'è bisogno prima di costruire la chiesa di essere ispirati e di essere connessi con la divinità prima abbiamo fatto il gioco di costruire una casettina di pietre dove si è parlato solo di cose materiali prendi la pietra mettila lì mettila la e siamo andati a costruire insieme con il principio dell'energia della vergine qualcosa semplicemente con il nostro lavoro l'unico obiettivo che avevamo era finire una costruzione obiettivo completamente umano diciamo qui invece l'obiettivo che dà il capricorno pur essendo magari anche materiale come la costruzione di una chiesa o la scultura di una statua in realtà è l'ispirazione divina o comunque di affermazione della presenza divina nella materia queste queste nella terra quindi in questo senso il capricorno può essere spirituale ma anche usare la terra come elemento quindi alla manifestazione di dio sulla terra detto in parole un po' auliche forse facciamo finta di essere in questo frato e prato allora chi è c'è qualcuno capricorno perché io l'ho preso perché all'inizio molti mi hanno detto sono capricorno e ho scelto i segni per chi non c'era in funzione di quante persone mi hanno dato i loro segni ho cercato di capire quali erano i più frequenti quindi probabilmente ci sono parecchi capricorno papà e mamma e figlio tutti capricorno bene 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 allora vediamo se riconosci il loro lato ombra il loro lato luce quindi immaginiamo di essere in questo bellissimo prato siamo in questo bellissimo prato tutti riuniti tanta terra tanta buonasera buonasera una bellissima vista tanta materia con cui lavorare possiamo sempre avere delle pietre per costruire la chiesa non è che dobbiamo inventarci ora cose diverse e il nostro signor capricorno che arriva con l'energia del capricorno il nostro mosè dice costruiamo una chiesa e noi diciamo bellissimo progetto bellissimo progetto però com'è l'energia in ombra del capricorno e qui mi aggancio a questo messaggio in cui tu dici loretana che hai la mamma capricorno che ti ha rovinato la vita in collaborazione con tua sorella allora qui vogliamo smontare un po questo tipo di ragionamento in cui gli altri ti rovinano la vita tu dovevi vivere quell'esperienza probabilmente hai vissuto l'esperienza con loro perché dovevi imparare qualcosa se no sarebbero sprecata spero che non sia sprecata e quindi in questo senso forse riconoscerai questi lati in ombra del capricorno prova a fare con me l'esercizio di vederli trasformarli in luce che ti può anche aiutare perché dicevamo questo esercizio è un esercizio che facciamo tutti insieme è molto semplice però ci dovrebbe aiutare a capire che la stessa energia non è né buona né cattiva possiamo noi trasformarla da un lato all'altro e se cambiamo modo di vedere le persone anche del capricorno come nel tuo caso le vedi più sul negativo cambi modo di vederle probabilmente riesci anche a fare qualche miglioramento nella relazione che hai con loro perché sei tu che mandi queste immagini negative ormai ti sei focalizzata sul giudizio negativo sul vedere solo la parte ombra il nostro potere della mente è molto più forte di quello che crediamo e quindi quello che pensiamo degli altri si materializza se vogliamo che gli altri cambino dobbiamo cominciare a cambiare il pensiero su di loro quindi in questo momento cosa facciamo prima di cominciare c'è un commento sulla Vergine scusate dice Liviana allora prima c'è Cristina che dice sì mia sorella capricorno senza offesa ma per carità ma dai cercate di vederli in positivo Liviana dice da Vergine confermo lato in ombra in luce purtroppo negli ultimi anni molta ombra e qui bisogna accendere la luce fai il lavoro di accendere la parte luminosa dentro di te molta meditazione molta chiedere proprio di voler vivere la parte in luce cominciamo un attimo quindi finiamo col capricorno e facciamo questa figura di leader che anche qui vediamo tutti come leader o comunque quello che ci guida e il capricorno quando è in ombra arriva siamo un bel gruppo tutto gioioso vogliamo costruire la casa di dio la chiesa prendiamo le pietre e dice incomincia a fare le burocrazie guardate che non si può cominciare così senza avere un progetto ben fatto aver deciso bene cosa vogliamo questo è quando in ombra incomincia a essere molto preciso che vuole tutto perfetto poi se uno dice ma dai è bello cominciamo subito diventa severo no non si può subito prima bisogna avere chiarito tutto quanto state fermi non vi muovete finché non è tutto chiaro e dall'idea di essere un po spietato un po freddo un po insensibile la gente comincia a dire ma che noia io ero venuto qui per fare un progetto gioioso spirituale e questo signore ci abbassa l'energia lo vedo duro lo vedo pensa solo alle regole a fare le burocrazie ma noi siamo persone qui bisogna creare gioia quindi si crea sempre una contrapposizione quando il capricorno in ombra perché crea quella forma di pesantezza che sembra anche un po di pessimismo se fate così rovinate tutto non verrà mai una chiesa eccetera eccetera dobbiamo prima avere gli obiettivi pratici non possiamo fare le cose così con leggerezza poi si fa un casino crolla tutto e quindi può anche dire se non fate come dico io me ne vado cioè avere proprio degli atteggiamenti un po negativi e noi allora che facciamo trasformiamo ora in luce questa energia perché sempre la stessa energia e dobbiamo vedere l'altro lato della medaglia questa persona facciamo anche con lui il rito della terra e gli diciamo vieni qua tutto il gruppo si riunisce prendiamo delle piccole manciate di terra e cominciamo a dargli qualche spruzzatina di terra dicendo questa è terra sacra ora noi eliminiamo tutta l'ombra illuminiamo questa energia del capricorno che è venuta fuori in ombra vogliamo vedere il tuo lato luce quindi immaginiamo che questa persona si calmi e venga inondata accendiamo la luce lo facciamo come miracolo noi stiamo immaginando possiamo immaginare quello che vogliamo miracolo basta fare questo gesto con la terra sacra e tutto diventa luminoso e improvvisamente questa persona si alza e incomincia a dire secondo me dobbiamo fare la chiesa partendo da qui attenzione facciamo questa struttura in modo solido e guida tutti gli altri e tutti quando sono lì con la pietra non sanno dove metterla lui sa dire esattamente dove deve andare stabilisce gli obiettivi da principio molto chiari entro domani mattina dobbiamo aver finito questa parte poi faremo quell'altra i tempi ci stiamo dentro e dice io ho ricevuto come ha fatto mosè indicazioni divine su come si fa questo progetto e la chiesa dovrà essere così quindi da anche una visione di quello che deve essere la fine l'obiettivo finale ma è strutturato concentrato ha un grande senso di responsabilità ci sono io vi aiuto io se avete difficoltà venite da me è chiaro nelle sue comunicazioni è serio sì però è una serietà che ispira fiducia e si sa che si può contare su di lui se c'è bisogno ha grandi abilità anche gestionali amministrative di questioni in pratiche però la cosa più importante è che fa tutto in maniera ispirata quindi quando il capricorno diventa in luce diventano quelle persone che diventano dei leader nelle grandi aziende nella politica nelle immaginate un presidente del consiglio così o presidente della repubblica che dà l'idea di sapere tutto per ispirazione divina e organizza e struttura tutto nella migliore dei modi dal punto di vista anche della serietà professionale non pensiamo che la serietà sia negativa la serietà è anche un qualcosa di positivo io all'inizio ho detto giochiamo non bisogna essere seri però la serietà in alcune situazioni di vita è fondamentale credo che in quest'epoca preferiremmo avere dei politici seri che dei politici che si divertono giusto quindi c'è bisogno di questo tipo di energia lato positivo lato luminoso del capricorno quando voi avete a che fare con un capricorno e vedete il lato negativo ricordatevi che è una persona su cui potrete sempre contare che quando riesce a manifestare la luce è strutturato e serio ma vi dà una fidabilità totale e che quindi anche il capricorno come tutti gli altri segni può avere un'energia meravigliosa e anche connesso con la divinità non dico altro quindi non cercate di meno di sminuirle in realtà qui c'erano anche tanti capricorno dice per carità sicuramente molto capace e intelligente infatti stabilisce gli obiettivi e gli altri infatti da capricorno conferma ecco vediamo chi è capricorno visto che l'abbiamo è stato un po criticato ho provato in tutti i modi ad ammorbidire ma nulla il capricorno è molto particolare lì il difetto lo sai qual è cristina che non lo puoi ammorbidire devi trasformare le sue caratteristiche di secchezza di durezza e terra è duro e freddo la terra come lo puoi ammorbidire sì lo bagno un pochino la terra però è sempre terra tu devi vedere il lato positivo non amor cercare di cambiarlo devi pensare il lato positivo di quella persona quando la pensi mandi l'immagine positiva e lui ti ritornerà la tua immagine positiva beatrice a che bello mi piace ti piace ascoltarmi bene state guardando ma cosa dite il capricorno è serio onesto organizzativo brava adesso lei c'è chi difende il capricorno abbiamo creato la guerra a favore contro capricorno devo dire che è proprio uno dei motivi che ho detto all'inizio che a me dispiace che ci siano dei segni che vengono giudicati negativi perché non è vero tutti segnano il lato negativo è proprio il lavoro di stasera tutti segnano il lato negativo brava claudia non so se tu sei capricorno però dici il capricorno è serio onesto organizzato ma duro con se stesso e con gli altri pretende molto perché dà tanto bravissima ecco lei ha espresso il capricorno in luce bravissima quindi cercate di vedere capricorno così quando li avete si è vero ma non si mette in discussione dipende perché chi non si mette in discussione può essere qualsiasi segno dello zodiaco quello è un discorso che non dipende dal segno ma dipende dal livello di consapevolezza della persona qualsiasi segno essa abbia si mette in discussione o non si mette in discussione dipende dal suo livello di consapevolezza raffaella ciao raffaella ti conosco bene tutta famiglia capricorno mi è bastata non ho un'amica del capricorno sono troppo seriose individuali non dare giudizi che raffaella dai adesso voglio vedere se raffaella ha qualche lato negativo qualche lato in ombra che deve illuminare allora brave persone brava raffaella di lato positivo katia dice da capricorno confermo ecco questa è una bella auto analisi in passato sono stata piuttosto rigida adesso per fortuna lo sono molto meno è stato un lavoro non facile sul mio carattere ma si può riuscire a fare tutto con molta buona volontà e consapevolezza delle proprie ombre bravissima io qui ti darei già un super cuore però non so se ci riesco poi lo farò dopo loredana infatti stabilisce gli obiettivi agli altri per carità sì infatti per carità sicuramente che mamma le avevo già letti questi non è vero cristina è che alla fine siamo delle guide brava siete delle guide si diciamo che li obbligo li obbligo a essere delle guide se è in in ombra però poco affettivi sicuramente non hanno lo scopo dell'affettività non è che tutti devono essere affettivi ci sono 12 segni perché sono 12 energie devono esserci tutte pensate se fossimo un mondo solo di affettivi e nessuno facesse niente non ci fosse mai serietà non so se funzionerebbe algidi è vero buoni ma glaciali certo certo altrimenti poi la chiesa crolla bravissima filomena hai capito il concetto ci vuole anche quell'energia lì perché altrimenti non non si costruisce niente non si va da nessuna parte poi ci vuole l'ispirazione divina e poi tutti abbiamo un po di capricorno vorrei vedere attenzione tutti adesso tutti quelli che hanno detto qualcosa di negativo sul capricorno vorrei vedere il loro tema natale perché magari c'hanno anche loro qualcosa lì ed è per quello che la vivono in ombra perché hanno una funzione che non riconoscono in se stessi allora attenzione perché poi sono dolori a capire che tutto quello che critichiamo negli altri in realtà fa parte di noi è il primo passo è di consapevolezza katia dice ci sappiamo sciogliere ogni tanto ma certo perché non sei mica cento per cento capricorno ci avrai anche un po di acqua un po di terra un po di fuoco e quindi sono gli altri elementi fanno un bel mix che ti fanno anche sciogliere soprattutto l'acqua aiuta il capricorno quando ha dell'acqua sicuramente molto più morbido come la terra dei fiori quando è secca fa morire i fiori però se la bagnate l'acqua e la terra danno la vita alimentano ah per carità claudio state sbagliando chi ha un amico capricorno dorme sogni tranquilli bravissima duro e freddo si conferme non mi piace la superficialità infatti magari ci sono dei segni che sono più gioiosi ma poi non ti saprebbero costruire una chiesa quindi magari non ce n'è bisogno in quel momento di avere solo chiacchiere tutte chiacchiere distintivi no mia sorella è così eccetera tanti pregi ma nei sentimenti ti uccide dipende dipende sei capricorno claudia ecco ma quindi hai sentito cosa pensano di questo questo specchio viviana io parlo sempre dello specchio poi un giorno anche qui andiamo giù duro con lo specchio io saturno in prima casa altro se c'è il capricorno anche se sono ariete scendente acquario bene brava questa è katia ciao e claudia il capricorno non è calcolatore fai tu un'analisi vedi cosa hai fatto per fare infuriare i tuoi parenti a stai parlando con la persona che aveva tutti i parenti infuriati brava cristina io sono segno di acqua ma nulla con me non si ammorbidisce e c'è da fare un lavoro su di te puoi fare capire perché lo vuoi ammorbidire prova a vedere il lato positivo suo senza bisogno di ammorbidirlo e magari accettando ottieni poi quello che hai smesso di desiderare in maniera sbagliata il capricorno diventa fantastico quando si lascia andare alla creatività la magia delle cose deve solo imparare a lasciarsi andare e a sentire la sua connessione perché ce l'ha come tutti poi non è che non ci siano segni non connessi però diciamo che gli ultimi quattro segni sono quelli più vicini al lato spirituale bene una carissima amica del capricorno non dimostra molto i suoi sentimenti ma un grande cuore c'è sempre la stimo moltissimo potete contare sulla fidabilità del capricorno benissimo stasera abbiamo finito allora io direi che ci fermiamo qui ci vediamo tra 15 giorni e magari continuiamo con gli altri segni questo esercizio se vi è piaciuto se non vi è piaciuto me lo scrivete trovo qualcos'altro da fare tanto siamo tutti adulti io non mi offendo però mi sembra che parlare di lato ombre lato luce dei segni scatena sempre dei bei dibattiti quindi forse vale la pena fare anche gli altri vi saluto vi abbraccio ciao ciao a tutti abbraccio così abbraccio computer che come abbracciare voi ciao alla prossima